... Benvenuti alla Resegna Stampa di oggi, giovedì 4 febbraio 2021, in diretta alle 7 del mattino. C'è occhio ai giornali, un'occhiata e un commento alla stampa del giorno. Qual è la stampa? La stampa sono i due quotidiani locali, il resto del Calino è il Corriere Adriatico, soprattutto l'edizione di Piesa Urbino, ma daremo un'occhiata ovviamente anche alle notizie che arrivano dalla regione Marche. Cominciamo però a vedere come sempre il santo di oggi e poi il tempo. Oggi è San Giuseppe da Leonessa, il sole sorgerà alle 7.24 e tramonterà alle 17.25. Uno sguardo veloce al tempo, il bollettino della protezione civile delle Marche. Oggi prevede cielo parzialmente nuvoloso con nuvole medio-alte, con temperature in aumento in particolare nei valori minimi. Mentre per la giornata di domani, venerdì 5, ancora nuvole, nuvole ma senza precipitazioni, nuvole anche piuttosto consistenti. Attenzione anche ai banchi di nebbia nella giornata di domani sulla fascia costiera basso-collinare. Per quanto riguarda il sabato 6, più o meno vedete la situazione identica a quella di venerdì, con nuvole sulla fascia costiera e temperature che sono senza variazioni di rilievo. Ma attenzione perché sta per avvicinarsi poi una perturbazione atlantica nella giornata di domenica, che favorirà un aumento della nuvolosità con un rafforzo dei venti meridionali e deboli precipitazioni per l'inizio della settimana prossima. Andiamo subito a vedere i giornali. Cominciamo dal Corriere Adriatico. Questa è la prima pagina dell'edizione pesarese. Sigilli al poleambulatorio, titolo d'apertura. Tamponi non autorizzati. I carabinieri mettono sotto sequestro le due sedi del centro Igea. Un'infermiera firmava i referti dei test come se fosse un medico. Si indaga per truffa aggravata. La politica nazionale con risvolti ovviamente sul locale, sulla regione. I politici marchigiani e il nuovo governo. Draghi, caso Movimento 5 Stelle, coltorti guida i no. Terzoni, vediamo. Tre grillini su 11 in Parlamento. Si schierano il resto in attesa delle prime consultazioni. La sua elezione per FUA così attuale. Cultura, conoscenza e coesione. Mentre sulla pagina del resto del Carlino, la fotonotizia per lo sport. La vis frenata da Colucci. Finisce senza gol la sfida con il Ravenna dell'ex tecnico. Poi Tamponi, sequestrato un laboratorio. Sfornava referti senza autorizzazione. Denuncia dell'Asur. Indagano i carabinieri. Test a prezzi troppo alti. Covid. 2000 le vittime. Il resto il rebus dei vaccini per gli ultraottantenni. I positivi nelle scuole. A Pesaro sotto l'1%. Si parla dello screening portato avanti dal Comune. E poi la storia di quel mendicante morto. Vince la solidarietà. 5.000 euro per moglie e figli. E ancora, impianti sportivi di Via Togliatti. Siamo sempre a Pesaro. Bittner rimette tutto in gioco. Parliamo della federazione Pentathlon. E il flash mob che c'è stato ieri in Piazza del Popolo a Pesaro. Per Giulio Reggeni. 99 banchi e un altro vuoto. Scovato un furbetto del reddito di cittadinanza. Aveva dichiarato di essere residente in Italia. Da almeno due anni incastrato dalla finanza. E poi a Piobbico invece frodi online e telefoniche. Autori incastrati. Soldi sottratti dal conto corrente pagamenti. E finti venditori. Due episodi in pochi giorni. Allora, terapie intensive. Meno stress. I ricoveri sotto la soglia critica. Da due giorni l'occupazione dei posti letto per Covid è al 29% del totale. In area medica siamo al 46%. Ieri le altre 15 vittime. Il totale supera quota 2.000. Boom di guariti. 1.500 in 24 ore. Calano gli isolamenti domiciliari. Poi accertati 408 nuovi casi con un tasso di tamponi positivi sceso al 22,9%. Poi nell'ultima tornata di analisi i sintomatici sono il 12% del totale. E adesso parliamo invece di vaccini. Perché? Qual è la sorpresa? Sorpresa fino a un certo punto. Perché insomma era un po' nell'aria. Questo vaccino AstraZeneca non è che abbia esordito al meglio. E dunque adesso scappa fuori che quello russo, Sputnik, che è già il nome, tutto un programma, piace all'Europa. E mentre all'inizio tutti lo snobbavano, europei soprattutto e non solo, compresi, adesso lo accarezzano. Perché? Perché hanno capito che non possono contare invece su AstraZeneca. Addirittura qualcuno suggerisce di non comprarlo per niente, di eliminarlo del tutto perché tanto non serve. O non serve granché. Andiamo però a vedere nel dettaglio questo articolo che è scritto sulla pagina primo piano del resto del Carlino. Allora, le fiale di Putin funzionerebbero intanto al 96%, che è una percentuale davvero importante. Le altre invece possono coprire al massimo il 76%. Il ministro Speranza dice nessun timore. E allora andiamo a vedere qual è meglio di questi due vaccini. Il vaccino europeo AstraZeneca o quello russo Sputnik? Il dubbio cresce dopo che sulla prestigiosa rivista Medica Lancet è stato pubblicato uno studio che stima l'efficacia del siero russo ad un elevatissimo 91,6%, mentre l'AstraZeneca è ufficialmente, quindi è ufficiale, non copre oltre al 59,5%. Quindi possiamo parlare di un 60%, anche se poi questa rivista prestigiosa di cui abbiamo detto parla del 76%. Comunque noi rimaniamo ai dati ufficiali 59,5%. Poi c'è anche da aggiungere, attenzione, che in Italia e nel Belgio è autorizzato questo AstraZeneca fino ai 55 anni. Quindi dopo non lo fanno chi ha più di 55 anni. In Germania fino ai 65, tagliando fuori di fatto quindi l'uso agli sugli anziani. Non a caso ieri invece la Svizzera ha dato parere negativo sulla sua autorizzazione. Mentre Sputnik, osserva Massimo Galli, l'infettivologo primario del Sacco di Milano, ha avuto dati oltre le aspettative per questo Sputnik. È evidente che i risultati sono superiori a quelli ottenuti da AstraZeneca. Mentre Antonella Viola, sempre immunologa, dice io rinuncerei del tutto a questo vaccino di AstraZeneca. E a fianco di Pfizer e Moderna punterei sul vaccino russo Sputnik e sull'altro americano Johnson & Johnson. Mosca vuole aumentare la produzione estera di questo vaccino. In un futuro molto vicino vogliamo cominciare a produrre in altri paesi per rispondere alla domanda crescente. Ha detto il portavoce del Cremlino e tra i paesi candidati c'è anche la Germania. Germania che, attenzione, non sta a guardare. Questo, ecco, vedete l'altro sempre da questa pagina qua. Tutti aspettano il via libera dell'EMA. Ma intanto la Merkel ha sentito Putin su questo Sputnik. È un gioco di parole, uno scelicolo, però è così. Ecco, questo per dire, se ci soffermiamo su questa frase, questo dice molto. Io, la segna stampa è locale, quindi ho evitato di proporvi tutte le pagine che questa mattina parlano di draghi, di tutti i giochetti, giochini che si fanno, telefonate, controtelefonate, mettiamo quel ministro, mettiamo quell'altro, non ci sono i numeri, ci sono i numeri. In Italia questo facciamo nelle ultime 48 ore, forse anche prima, da quando è iniziata la crisi. In Germania, governo stabile, la Merkel che fa, quando prende il telefono, lo usa per chiamare Putin e ordinare le fiale per i suoi cittadini da iniettare con il vaccino. Ecco, questo per farvi capire come viaggia il mondo. E dicevo, anzi diceva ieri Saltamartini in quell'intervista che vi abbiamo proposto, l'assessore regionale alla sanità, di cui parleremo tra un attimo, vedete questo è il titolo, 2000 vittime a inizio pandemia, vaccini, si accelera per le dosi agli over 80 e Saltamartini nell'intervista che ha realizzato Simona Zonghetti per il nostro telegiornale, ieri diceva una cosa giustissima, l'Italia ha un sacco di gente intelligente, brava, che fa cose straordinarie in giro per il mondo, però ci comportiamo come gli ultimi della classe. Io non so, e lui diceva questo e io condivido, ci metto la firma sotto. Non si capisce il perché poi succeda questo. Va bene, comunque torniamo alle nostre pagine. Dicevamo di questo titolo che troverete, questo articolo che pubblica il resto del Carlino oggi. Si accelera, vedete qui nelle Marche, per avere queste dosi da destinare a chi ha più di 80 anni, perché ieri ci sono stati altri 15 morti, quindi questa lista continua, questi numeri continuano a salire, 2.000 le vittime dall'inizio di questa pandemia. Poi c'è l'altra pagina invece che vi segnalo questa mattina, interessante. Sapete che sul plasma iperimmune, su questa cosa sono abbastanza sensibili. La pagina 11, il Corriere Adriatico, Camilla Cataldo, scrive un articolo che riguarda appunto questo farmaco. Lo chiamo così, un farmaco che secondo me è un farmaco sottovalutato, sul quale si poteva forse spendere qualche energia in più. Io lo considero un farmaco che è direttamente consigliato dal cielo, dal Padre Eterno, perché è un farmaco che costa poco, che lo produce madre natura, ovvero l'uomo, con il suo sangue, e soprattutto prevede una cosa, un gesto d'amore, perché per aiutare una persona malata è necessario che una persona che ha superato la malattia faccia un gesto d'amore verso chi soffre. E quindi c'è tanto di bello dietro tutto questo. E funziona, soprattutto questo funziona. Ci hanno, secondo me, poi chiaramente l'uomo di fronte alla possibilità di fare tanto del bene gratis, e preferisce fare tanto del bene guadagnandoci. Questa purtroppo è la triste realtà. E allora, piuttosto che puntare sul plasma iperimmune, dove c'era poco da guadagnare, hanno puntato sul vaccino, dove invece, come abbiamo visto anche ieri, insomma, con i dati e le previsioni della Pfizer, con tutti quei miliardi di dollari che incasserà nel 2021 insieme alla BioNTech, eccetera, insomma, ci fa capire un po' come va il mondo. Ecco, e questo però, questo plasma iperimmune, poteva, secondo me, andare un po' meglio. Però, comunque, qual è l'appello che viene lanciato questa mattina sul giornale e che noi rilanciamo attraverso la nostra rassegna stampa? Allora, l'appello è questo. Donate il plasma, donate il sangue. Perché? Perché sono terminate le scorte. L'Avis in campo per Marche Nord si cercano donatori. È un appello, un appello che arriva dall'Avis di Pesolo, che ha messo in piede una importante campagna di sensibilizzazione per aiutare i malati di Covid ad avere speranze in più. Quali sono i criteri per donare il plasma iperimmune? Sono avere un'età tra i 18 e i 65 anni, avere superato da almeno 14 giorni la malattia da Covid-19, con anticorpi dunque ancora validi, avere requisiti per la normale donazione del sangue. Ora, per poter fare questa cosa, questo gesto d'amore, aiutare le persone che in questo momento, mentre noi stiamo qui a parlare, sono stese su un letto in ospedale, si dona su appuntamento. È necessario prenotarsi a questo numero di telefono. Se avete il telefonino sotto mano, io sono sicuro che l'avrete perché tanto ormai si vive con il telefonino in mano, ecco, fate una foto al vostro televisore e questo è il numero che vedete da chiamare, sono due, anche con WhatsApp, 0721 31466 oppure 388 5804671. Chiamate, prendete appuntamento e vi accompagneranno in questo percorso semplicissimo che però vi farà stare non bene, benissimo. Scoperto laboratorio clandestino di tampone, un'infermiera si faceva passare per medico. È un'altra notizia che troverete nelle pagine locali dell'arresto del Cardino a firma di Roberto Damiano. Un'infermiera appunto che non era medico, i carabinieri hanno sequestrato Igea Policlinica su denuncia dell'Asur, forniva referti senza alcuna autorizzazione positiva, li invitava solo a chiamare il proprio dottore di base, ogni test lo faceva pagare 60 euro, ma il vero prezzo era di 3 euro. La risposta della persona interessata, Barbara Cambrini, che è a capo di questo centro, dice la titolare di questo poloambulatorio, precisa che è laureata in infermieristica e dice io sono capace di fare i test, ho solo sbagliato a non dirlo all'Asur. Sullo screening invece a scuola, nelle scuole pesaresi, in quarta e quinta classe, le adesioni sono arrivate al 100%, quindi adesione totale della Dora, Ceccarelli ieri pomeriggio in supervisione al Bramante Genga, sottoposti a test anche insegnanti, educatori, cuochi e ausiliari di 26 istituti di infanzia. Poi i pendolari del concorsone Asur, invece le voci alla vitrifrigo, dove c'è stato questo maxi concorsone, dice lavorare qui, beh sì, ci verrei di corsa. La storia, la storia a proposito di generosità, di cuore, di amore, la storia di questo uomo che non c'è più, lo vedete nella fotografia con uno dei suoi figli, si chiamava Favor, lui ha una moglie, due figli, il giovane è entrato nel cuore di molti pesaresi, è morto e in tanti adesso hanno aiutato la sua famiglia. Hanno raccolto qualcosa come 5.000 euro per la moglie e i due figli, c'è chi ha donato anche 500 euro e chi addirittura 1.000. Insomma, si andrà avanti ancora per questa settimana, ecco come partecipare, tutte le indicazioni le troverete appunto sul giornale di oggi. Intanto regala un farmaco a chi ha bisogno, via la mobilitazione, torna la campagna in programma dal 9 al 15 febbraio e poi la cronaca da Monteporzio con una famiglia intossicata dal monossido. Per padre e madre è stato necessario il trattamento in camera imperbarica, l'allarme è scattato nella giornata di ieri mattina. Un'intera famiglia di Monteporzio, padre e madre e quattro figli minorenni, che è finita all'ospedale per intossicazione da monossido di carbonio e per i due adulti è stato necessario anche il trattamento in camera iperbarica, camera iperbarica che abbiamo qui a Fano. Mondolfo, l'ultimo libro di Donald Demiro Giuliani. Da sabato prossimo sarà disponibile il volume che il sacerdote era in procinto di pubblicare. Dunque un ultimo regalo, si scrive Sandro Franceschetti sul giornale questa mattina e al contempo l'ultimo gesto di grande generosità di questo parroco, ex parroco di Mondolfo e poi per molti anni anche cappellano dell'ospedale Santa Croce di Fano che si è spento il 31 ottobre scorso a 86 anni proprio a causa del Covid. E poi c'è la battaglia, la battaglia dell'assessore regionale Giorgia Latini, l'assessore contro l'aborto, assessore che spacca le marche, ora siamo pronti a dare fondi per la vita, la battaglia di Giorgia Latini e della Giunta da due mesi hanno scatenato un putiferio. Da marzo, dice Giorgia Latini, aiuteremo le donne incinta in difficoltà economica. Davvero, queste sono le belle notizie che vorremmo leggere tutti i giorni nelle nostre assegne stampa. Il caso RU486, che è la pillola, la chiamano così, RU486. Diciamo no alle linee guida governative, la pillola va presa solo in ospedale, ma non nei consultori, come se fosse una ziguli al gusto dell'arancia. Insomma, ecco, tanto per capirci. Mentre sulla pagina di Fano, pagina 20, il titolo d'apertura è per la risposta che l'assessore alle attività produttive Etienne Lucarelli del Comune di Fano dà a chi chiedeva di non pagare la TOSAP, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Bar e ristoranti si aprono all'esterno, va bene, ma gli spazi occupati devono essere pagati, bisogna pagarli. L'assessore non accoglie la richiesta di esenzione della TOSAP, possibile solo con gli aiuti del Governo. Beh, d'altra parte, sì, si capisce, certamente i commercianti sono in una situazione difficile, però da qualche parte bisognerà pure che il Comune incassi qualche cosa, altrimenti se non ci sono aiuti governativi è difficile poter restare in piedi. Sulla lotteria degli scontrini, mugugni degli esercenti, Confcommercio lamenta che l'operazione è partita, male e a rilento. Mentre voglio farvi vedere questa fotografia, qua a fianco della testata del Corriere di Fano, sono due teschi, i teschi erano anzi, perché sono stati, grazie al cielo, sono stati spostati, erano stati messi davanti alla chiesa di Sant'Antonio, per carnevale, sono stati rimossi dopo le proteste, montate sui social, vedete, ogni tanto qualche volta i social servono anche a fare qualcosa di buono, cioè questi due teschi messi davanti a una chiesa, cioè potete capire l'effetto. Va bene. Nuove tecnologie, qui c'è la storia invece di un fanese, Marco Salucci, importante per lui riconoscimento dal principale istituto del settore, nuove tecnologie, ingegnere garante della comunicazione, 35 anni, ha studiato al liceo Torelli di Fano, sotto invece Cecchetelli, il tenore alter ego di Del Monaco, la straordinaria carriera del cantante, che iniziò a esibirsi come baritono. La pagina di Fano invece del Carlino, questa mattina, è sugli abusi ambientali, in azione gli ispettori di Aset, super lavoro l'anno scorso, guerra all'abbandono dei rifiuti, e a chi non provvede a raccogliere correttamente le deiezioni dei cani. Qui c'è un articolo dove si può vedere, leggere come sono andate le... e anche avere un po' il polso della situazione, di quanto siamo educati e mal educati. Quindi è stato un 2020, scrive Tiziana Petrelli sul Carlino di questa mattina, è stato un anno impegnativo per gli ispettori ambientali di Fano, dell'Aset, nei comuni dove è stato attivato il servizio, quindi parliamo di Fano, Colle al Metauro, Fossombrone e Pergola. Divisa blu, Tacuino, Biancoverde e Lamano, hanno effettuato 5.205 interventi, riscontrando 377 violazioni, di cui è stata data notizia, tramite appositi verbali, al comando di Polizia Locale, per ulteriore seguito di competenza. Insomma, ci hanno avuto un bel da fare, e questo significa che ancora c'è chi non ha capito come funziona la differenziata, per essere buoni. SRT, dove nascono i treni che curano i binari? Invece è una notizia, sempre dalla pagina di Fano del Carlino, dove in questa fotografia possiamo vedere Lorenzo Peroni, amministratore delegato della SRT, il progettista del sindaco di Fano Massimo Seri, che si è recato a visitare lo stabilimento, dove fanno che cosa? Dove nascono i treni che curano i binari. Lungo la statale si nasconde un mondo di alta tecnologia, viaggio nella struttura che assembla i convogli più sofisticati, ed è un fiore all'occhiello, non lo sapevamo. Abbiamo anche uno stabilimento di carpenteria metallica a Sant'Ippolito. La missione è quella di eliminare le imperfezioni e i difetti, e anche ridurre vibrazioni e rumori appunto nelle carrozze dei treni. Poi c'è un'altra storia invece, un altro, questo possiamo definirlo sicuramente un genio, un genio della fisica, si chiama Alessandro, ha 24 anni, e ha già alle spalle un'esperienza da gigante della fisica. Si tratta di un fanese, Alessandro Scarabotto, nipote della nota guida turistica Emanuele Palmucci, doppia laurea magistrale in fisica, delle particelle all'Ateneo di Ferrara, e l'Università di Parigi Sud, con esperienze formative nei più importanti laboratori al mondo di fisica nucleare. Andiamo avanti. La cronaca ci porta invece, qui immagino che non siano delle scienze, non siano dei geni, quelli che cercano di godere del reddito di cittadinanza, pur sapendo, quindi pur sapendo, di non averne diritto. Insomma, torna a casa e gode del reddito di cittadinanza, sul Corriere Adriatico non ne aveva diritto, ora dovrà restituire tutto, beh, minimo. La finanza scova un altro furbetto, e qui, come dicevamo ieri, forse è il caso di cominciare a chiamare con il vero nome, ovvero, quindi facciamo una bella X, e qua ci scriviamo, lo possiamo immaginare così questo sottotitolo, la finanza scova un altro disonesto, un 48enne rientrato dal Venezuela, stretta collaborazione con l'Inps. Sul Genica, un fiume torrente di Pesaro, finalmente si può partire, partire con un pacchetto di lavori da 2 milioni di euro, sopra luogo di Biancani e dei consiglieri di quartiere, intervento ormai atteso da anni. La nuova scuola passa il testimone, presenta chi raccoglierà l'eredità. Domani assemblee dei genitori per ufficializzare l'ingresso della Onlus toscana. Sotto, invece, un banco vuoto e giallo per i cinque anni della morte di Regeni, un flash mob organizzato dagli studenti ieri mattina in Piazza del Popolo a Pesaro, a fianco dei ragazzi e anche il Comune con i propri rappresentanti, l'installazione realizzata dal Mengaroni verrà posizionata all'ingresso del Marconi. Dalla Valmetauro, più di una multa al giorno, siamo a Fossombrone, colpiti gli incivili dei rifiuti. Ecco, già qui, vedete come non li chiamano più furbetti, ma li chiamano incivili, va bene. Gli ispettori ambientali di Aset hanno elevato 377 verbali per il fenomeno dell'abbandono. Restaurata la balaustra della quadreria Cesarini, sapete da Fossombrone, l'intervento finanziato dalla Fondazione Carisp nell'ambito di Art Bonus. Intossicata un'intera famiglia per il bracere lasciato acceso, genitori e quattro figli minorenni soccorsi all'alba dal 118, vigili del fuoco e carabinieri, siamo a Monte Porzio. E poi, ancora dai giornali, Mondolfo. Ecco, questa è una notizia di politica interessante. A Mondolfo, duello Barbieri-Rapa, forse c'è un punto interrogativo. Potrebbe essere infatti l'ex consigliere regionale del Partito Socialista Italiano, uno dei competitor dell'attuale sindaco alle elezioni. Dunque, lo sfidante di Nicola Barbieri per la massima carica del quarto comune della provincia alle prossime elezioni amministrative di primavera, tra poche settimane, insomma, si vota, la prossima primavera si vota per eleggere il nuovo sindaco di Mondolfo. Da una parte c'è l'attuale sindaco Nicola Barbieri, dall'altra potrebbe esserci appunto Boris Rapa, l'ex consigliere regionale del Partito Socialista Italiano. Poi, Marco Salucci, ancora storie, ancora personaggi sui giornali di questa mattina. Giovane talento, è già nell'Olimpo degli ingegneri. Ingegnere Salucci da Fano, alla più prestigiosa rivista internazionale nel suo settore, dalla nostra città, va appunto, ha frequentato questo 35enne fanese al liceo scientifico Torelli e nel 2005 si è trasferito a Trento. Poi, aspetta, volevo darvi anche quest'altra notizia, sempre dal carlino di Fano, New Entry, una nuova entrata al comune di Fano, il posto di segretario generale affidato a Stefano Morganti, di 64 anni ed è lui, appunto, il nuovo segretario regionale. Da Urbino, viabilità più sicura, rinnovata la segnaletica, maggiori accorgimenti nei punti che in passato sono stati meno curati, attenzione per lo stato delle piante, arrivano interventi in vista. Santa Lucia, invece, novità nell'orario degli ascensori, saranno sempre attivi dalle 6 del mattino a luna di notte, si presenta Gabriele Guidi, nuovo direttore di Urbino Servizi. Da Senigallia, invece, niente vaccini nelle case di riposo cittadine, la rabbia del Presidente dell'Opera Pia, Mastai Ferretti, Mario Vichi, che dice ci hanno detto che tutto slitta dopo la metà di febbraio e poi addio a Egidio, il nonnino di 101 anni, il paese dice addio, il paese di Barbara, dice addio al suo nonnino centenario, Egidio Boria, insomma, che proprio un anno e mezzo fa aveva festeggiato i 100 anni, era nato il 22 ottobre del 1919, i funerali domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Barbara. E poi la spiaggia che scompare, subito gli interventi a Marina di Montemarciano, la rabbia degli esercenti, poi occhi puntati su tutto il territorio, la proposta 130 telecamere da installare nella città di Senigallia. Questa offerta di installare 130 telecamere che è una roba grossa perché insomma non è che uno così di punta in bianco to cure accende 130 telecamere, è un'operazione da grande fratello veramente extra large, è una proposta che è arrivata al comune di Senigallia dopo quella di un'altra azienda che si era proposta appunto per installare questi occhi elettronici. Quindi questa seconda proposta è arrivata nella giornata di ieri. Chiudo con due un po' di notizie. Una è questa che riguarda TikTok. TikTok ha deciso di bloccare gli under 13, praticamente adesso c'è la possibilità di segnalare se c'è qualcuno che ha meno di 13 anni. TikTok farà le sue verifiche e gli bloccherà il profilo. Non so quanto funzionerà. Chiaramente questo arriva alla luce di quei fatti di cronaca di cui abbiamo parlato anche noi e tutto il mondo. Cioè quei bambini che si sono uccisi dopo aver fatto un gioco su questo social network. Poi per quanto riguarda lo sport invece Vis Pesaro 0-0 contro il Ravenna solo un punto per la Vis e poi il derbissimo di ieri sera alle 20.30 è stata una partita straordinaria. Il derby va alla Med Store e la Vigilar Fano non la spunta. Finisce al tie-break alla fine gli ospiti allargano e la Virtus non riesce più a colmare il divario. Vigilar 2 Med Store Macerata 3. È tutto. Grazie per averci seguito. Ci vediamo questa sera alle 20.30 con il Telegiornale. Arrivederci.